Ciao, subito dopo la sigla ci sono tutti i nostri auguri e dalla fine non perderti il dietro le quinte con gli errori più divertenti. Buon Natale e felice anno nuovo! Buone feste di Natale! Buon Natale e buon nuovo anno! Buon anno! Tanti auguri di buon anno! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale a tutti! Buone feste! Buon Natale! 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 era già iniziato e servizi attivi da tempo come il report probabile prezzo di vendita presentabile anche da remoto e le nostre video visite apprezzatissime dai nostri clienti sono stati molto utili durante il lockdown, miglioreranno ancora. La visibilità dei nostri immobili è aumentata tantissimo grazie al piano di marketing personalizzato che abbiamo creato, utilizza 16 portali immobiliari, utilizza Facebook, Instagram, YouTube ed è stato attivato anche l'email marketing, è stata molto apprezzata la nostra rubrica settimanale oggi parliamo di migliorerà e non ci fermiamo qui, il prossimo anno ci saranno altre novità che miglioreranno le nostre consulenze, tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo. No, 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 no. Buone feste di Natale Buon Natale Buon Natale e buon anno nuovo Ciao, subito dopo la sigla Buon Natale e buon Natale Buon Natale e buon Natale Grazie a tutti.